Alle mie spalle alcuni frammenti di uno dei reperti più importanti di questo museo. Si tratta, come si può vedere, di un'anfora a figure nere di produzione attica del 540 a.C. circa, che raffigura la lotta di Eracle contro il Tritone, ma la particolarità consiste anche nell'essere firmata da uno dei più grandi pittori della ceramica arcaica, possiamo dire il Michelangelo a ceramica arcaica, ex echias, come riportato appunto il suo nome su questa anfora. E poi sul frammento dell'orlo, sempre alle mie spalle, una dedica, la dedica di una donna ad Afrodite Regina. Infatti l'anfora è stata ritrovata proprio nel santuario della sorgente di Saturo.